Allora, il progetto di buonanotte, finalmente lo possiamo vedere alla Biennale di Venezia, del Padiglione Italia, quindi dove verrà così visualizzato anche tramite lo schermo il progetto anche di Kaleidoscope. Kaleidoscope è questo progetto che di questa architettura viene così incastonata in mezzo a queste due case in modo quasi da creare una sorta di cellula che protegge, di poter invitare anche le persone a guardare e a relazionarsi anche con la natura stessa del posto. Quindi Kaleidoscope dal nome stesso ha questa possibilità varianti di lavorare sia sull'aspetto così della vista, del landscape, della fruizione, ma anche a livello storico, quindi un rifacimento, una relazione con la storicità anche del luogo. In più Kaleidoscope è posizionato longitudinalmente con la grotta denominata Grotta del Cavallone che D'Annunzio, nella sua opera teatrale della fine di Iorio, ne parlò all'interno proprio di questa sua opera. E quindi mi piaceva questo senso di mettere in relazione sia l'opera e anche la storicità del paese stesso. Una notte contemporanea nasce dall'esigenza di restituire a un luogo abbandonato nell'entratera abruzzese un nuovo significato, di restituire attraverso un progetto di rigenerazione urbana un nuovo senso agli luoghi abbandonati da diversi decenni. E' stata la grande passione di architetti artisti e società civile a formare un gruppo capace di organizzare un percorso di sicurezza all'interno del vecchio bordo di Montebello sul Sala.